Sono Valeria Pacelli del Fatto Quotidiano, volevo capire se c'era in realtà una coerenza, un'opportunità politica se vogliamo dire così, tra le sue scelte di ministro, le decisioni che lei prende come ministro e quelle come segretario del suo partito, perché mi viene in mente un caso qualsiasi che è quello di Scovelliti che è stato già condannato, ha subito una condanna, ma nello stesso tempo è lo stesso Scovelliti che sedeva al tavolo durante un pranzo, organizzato dai stati barbieri che poi sono stati arrestati per mafia. C'è una coerenza tra le decisioni che lei prende come ministro e quelle come segretario del partito? Sì? No? Se c'è qual è? In modo da capirlo. Guardi, io sto presentando un piano di contrasto all'andrangheta che riguarda gli indranghetisti, i loro affiliati e le forme di collusione, di questo mi occupo e questo è il mio mestiere da ministro. Il resto è il tentativo di mescolare due aspetti che non hanno nulla a che fare l'uno con l'altro.